Senatore Arrigoni, prima ancora che all'uomo della Lega Nord chiedo al membro del Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione, ovviamente anzitutto lei parli come vuole, parli da senatore Arrigoni perché è liberissimo di farlo. Allora, certamente gli aiuti devono essere spostati nei luoghi di partenza, e sta come tutte le grandi immigrazioni, se mangi al tuo paese non cerchi di spostarti. Cooperazione internazionale, per garantire il diritto di rimanere. Esatto, esatto senatore, però come spiegare all'Europa che due minuti prima ci dice sì sì bravi andate aiutati e due minuti dopo ci dice noi intanto chiudiamo i porti? Questo è il solito film che noi assistiamo, gli italiani assistono da oltre tre anni, da quattro anni, noi millantiamo dei successi, dei presunti accordi positivi per il nostro paese, in realtà poi si tratta, così come si tratterà anche domani dopo il vertice d'Italia, dell'ennesimo giro a vuoto. Impegni che cadranno, soprattutto per responsabilità, io lo dico, del nostro paese. Gli altri stati, non solo l'Austria, è da mesi che stanno controllando le proprie frontiere, c'è anche la Slovenia, c'è anche la Svizzera, che mi risulti anch'essa stia mobilitando l'esercito. La Francia di Macron, Macron che l'altro giorno ha partecipato al vertice a tre con la Merkel e Gentiloni, parlando di piena intesa, anche sull'ipotesi di chiusura dei porti italiani per lo sbarco di immigrati, il giorno dopo ha negato la possibilità di apertura dei propri porti, così come l'ha negata anche il premio a spagnolo. Il problema vero è che noi in Italia dovremmo iniziare ad attuare una politica interna basata sul rigore, sulla legalità, diminuendo i fattori di attrazione per questi migranti, che i dati statistici lo confermano, sono per l'80% migranti economici, quindi clandestini che dovrebbero essere rimpatriati, anzi non dovrebbero nemmeno partire dalle coste del Nordafrico, del Medio Oriente per venire nel nostro paese. Invece il nostro paese cosa fa? Invece di diminuire i fattori di attrazione, ne attacca di nuovi, così come l'abrogazione del reato di clandestinità, così come la forzatura di ieri, scusate ma c'entra per la Lega, quella di forzare anche l'allargamento della cittadinanza italiana attraverso lo IUSSOLI. Domani si tratterà anche di ricollocamenti che da mesi, da due anni in Italia si dibatte sulla scarso senso di responsabilità dei paesi della UE che non accolgono i migranti dall'Italia. Ma senatore le chiedo una cosa, sono poi di Andrea Comini, mi scusi, c'è in tutto questo il convitato di Pietra che è Dublino, cioè se qualcuno arriva qui, lei parla, adesso le faccio subito rispondere a Andrea Comini, ma se qualcuno arriva a Proda come primo punto geografico, diciamo così, a Lampedusa o a Pozzallo, ma vuole andare in Danimarca, faccio per dire, o vuole andare a Berlino, vuole andare a Stoccarda, non può farlo. Cioè c'è anche questo problema? C'è anche il problema della regola del paese di primo approdo da affrontare, ma questo è un problema che deve essere affrontato in ambito europeo. Ripeto, per governare il fenomeno dell'immigrazione certamente ci si deve muovere in ambito internazionale, per esempio per obbligare Malta a definire la propria area a mare di ricerca e soccorso, cosa che non è argomento per esempio del vertice di domani d'Italia, bisogna muoversi anche in ambito europeo, ma il difetto, la grave responsabilità che ha questo governo così come quello, quei due precedenti, è di non attuare una politica basata sul rigore e sulla legalità. Noi non effettuiamo rintracci, noi non facciamo riammissioni verso i paesi a nord, noi non controlliamo le frontiere. Lo scorso anno ci sono entrati attraverso le frontiere dell'Austria e della Slovenia migliaia e migliaia di immigrati, soprattutto afghani e pakistani, nonostante la rotta chiusa dei Balcani. Una risposta di Iacomini e poi siamo da Ghittoni. Concordo con il senatore che bisogna rivedere sicuramente Dublino, come concordo che questi migranti bisogna rimandarli da dove vengono, però cerchiamo di guardare da dove vengono. Innanzitutto non è colpa né del senatore né mia, se l'Africa è stata, come anche altre zone del Medio Oriente, fatta con il compasso e con il righello un po' di anni fa. Non è colpa neanche mia né di lei, senatore, se purtroppo in Africa negli ultimi dieci anni ci sono stati venti conflitti, praticamente negli ultimi venti anni. Ma non dica cose, non dica sciocchezze. No, 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 attenzione, guardi, le faccio vedere un rapporto che è uscito questa mattina delle Nazioni Unite che parla che negli ultimi vent'anni, no, però mi faccia parlare perché credo che tra noi ci possa essere una facilità, io ho trovato il suo intervento anche su certi aspetti corretto, quindi mi faccia raccontare anche agli italiani che sono disabituati alla verità, specialmente perché avete la campagna elettorale tra poco e quindi... No, no, guardi, io non voglio fare campagna elettorale. Allora, le dico questa cosa, negli ultimi vent'anni 25 conflitti. In questo momento 12 milioni di africani fuggono all'interno dell'Africa e pensi il 75% non viene qui, resta in Africa. Di questi 7 milioni sono bambini che naturalmente fuggono dal peggio, ma tutto avviene all'interno del contesto africano. Aggiungiamo a questo la Libia, dove naturalmente oggi l'Europa mette soldi, dove oggi rafforza la guardia costiera, dove oggi forma la guardia costiera, e in Libia ci sono 34 centri di detenzione, di cui noi abbiamo notizie soltanto per la metà, e nell'altra metà invece queste persone, quelle che riescono a fuggire e che ci arrivano da queste cose che le dicevo, ecco, subiscono violenze sessuali di ogni tipo, violenze fisiche, psichiche. Inoltre, quelli che si mettono in cammino non per venire qua, ma per andare magari in Niger, dove si vive con due dollari al giorno, o in Burkina Faso, dove si vive con un dollaro al giorno, ma non per venire qua, per andare lì, ecco, subiscono una media di 10 violenze al giorno. Ora, l'invasione c'è, è vero, ma è un problema di mobilitazione, di movimento, che appartiene all'Africa, e che non appartiene soltanto al nostro paese. Dove, sono d'accordo con lei, bisogna, come ha detto Papa Francesco, su questo lei sarà d'accordo, nel rispetto delle nostre regole, però, guardare anche a quello che avviene. Perché vede, e poi chiudo, spesso questi paesi, i conflitti in questi paesi, e la fame in questi paesi, gliel'abbiamo provocata noi, magari aiutando una fazione o l'altra, o magari qualche volta aiutando, o depredando delle risorse che hanno. Quindi, bisogna guardare un po' al quadro del gruppo globale prima di... Allora, allora, Arrigoni, grazie, grazie a Cominio. Arrigoni, e poi andiamo da Nicola Gittoni. No, io dico una cosa, i ricollocamenti sono falliti, e la Lega l'ha denunciato da subito, nelle stesse ore in cui ad ottobre Alfano rimpatrianava i Svezia e i 19 eritrei. Noi avevamo detto, sarà un fallimento e il ricollocamento, perché nel contratto, nell'accordo che l'Italia ha firmato con gli altri paesi dell'Europa, c'era scritto che l'Italia poteva ricollocare esclusivamente migranti appartenenti a nazionalità che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, cioè siriani, libici, iracheni, somali, afghani ed eritrei. Peccato che nel nostro paese, migranti di questa nazionalità sono pochi, quindi se oggi siamo 7 mila migranti ricollocati a quasi due anni, dove ne dovevamo ricollocare 40 mila, il fallimento sta nell'aver firmato un accordo che faceva acqua da tutte le parti. E replico a lei, in 85 mila persone che sono arrivate dal primo gennaio ad oggi, dobbiamo arrivare all'ottava nazionalità, alla nona nazionalità per trovare gli eritrei, 3.800, mentre come prima nazionalità ne abbiamo 14 mila. Sono i nigeriani, dove solo in due regioni nel nord-est della Nigeria, abbiamo il fenomeno di Bokkaram. 2 milioni e mezzo di profughi, senatore. Abbiamo 8 mila persone che arrivano dal Bangladesh, ci fanno 7.500 chilometri. Lo sa che i nigeriani si fanno mettere in cinta apposta per non subire violenze fino in Livia? No, guardi, sui numeri lei è prima invitato alla correttezza nei confronti di chi ci sta guardando. Ha ragione, ha ragione. Bene, io se vuole le snoccioli dati. Mi dica la fonte. Parte delle persone che arrivano nel nostro paese sono migranti economici. Non esiste questa definizione. Come non esiste questa definizione? Se fuggono dalla fame e dalla caressia. Lei è un bambino migrante economico? Allora lei mette in discussione la Convenzione di Ginevra del 51, che pretende agli stati di garantire la protezione internazionale a chi scappa da guerra o da persecuzioni. Fino ad oggi nessuno deve garantire l'assistenza per migranti economici o migranti climatici. Noi in Italia, e questo è un altro fattore di attrazione, riconosciamo unici all'interno dell'Europa la protezione umanitaria, che è un altro fattore di attrazione. Protezione che la Lega aveva chiesto nel decreto Miniti di quattro mesi fa di eliminare perché è un altro fattore di attrazione. Noi abbiamo fatto delle proposte concrete, ma noi come Italia non possiamo accogliere tutta l'Africa e tutto il Medio Oriente. Perché altrimenti l'Italia diventerà veramente un paese... Senatore, ma se ci sforzassimo, lei che è in Parlamento, se ci sforzassimo di fermare queste guerre come in Siria che durano da sei anni, quella in Yemen che dura da due anni dove qualcuno manda le armi, se ci sforzassimo di fermare, mi scusi, quella in Sud Sudan tra i Dinka e i Nuwer che dura da sei anni, quella in Centrafica che ha affamato un intero popolo, il nord a Nigeria e il Boko Haram, questo mai. Io, ascolti, io le ho detto, scendiamo le cose, si deve operare a livello internazionale, a livello europeo, e lì campo a cavallo, non ne veremo a una. Per esempio, l'accordo, cioè, quello che verrà fuori domani a Tallin, sulle ONG, sul fatto di realizzare un centro di coordinamento in Libia, sono frutte di una relazione conclusiva in Senato sull'ONG. Allora, se non fosse stata per la Lega, che ha chiamato il comitato Schengen, e qui parlo da esponente del comitato Schengen, la Lega ha chiamato a febbraio Zuccaro il comitato Schengen, da dove è partito tutto, da dove è partito l'indagine conoscitiva sulle ONG, dove sono arrivati... Non c'è ancora nulla, non c'è nulla sulle ONG, mi sembra, no? Come non c'è nulla? È stato emesso un avviso di garanzia dalla procura di Catania? Dalla procura di Catania no, dalla procura di Trapani, sì. Lei mi parlava di Zuccaro, senatore, non sbagliamo. A bordo e tante altre cose. Ivi compreso ha anche quella di definire delle aree di search and rescue per la Libia, per la Tunisia e soprattutto su Malta. Voglio ricordare che, scusi, in queste ore termina il semestre di presidenza europeo da parte di Malta e noi ci siamo lasciati sfuggire questa occasione. Domani si toccherà tante cose che porteranno a niente, ma non verrà imposto nulla a Malta. Ma non ospitare i migranti. Malta stava proprio raccontando la chiusura del suo semestre, non c'era nessuno, non so quanti senatori della Lega. Ma appunto, allora, detto questo, incominciamo a muoverci in campo di politica interna. Allora, io invece mi devo fermare. Mi devo fermare solo per pochi minuti. In qualche modo riprendiamo il discorso da dove l'avevamo interrotto cercando di visualizzare quello che ci diceva a voce il senatore Arrigoni, citando dati assolutamente corretti, che sono uno dei punti principali del problema, soprattutto se pensiamo ai ricollocamenti. Questa è la cartina. Abbiamo visualizzato le dieci nazionalità di provenienza di maggior flusso verso l'Italia, almeno nel 2017. E vi compare solamente l'Eritrea nel novero di quei paesi per i quali, cittadini, la richiesta di asilo ha una chance di essere ottenuta almeno nel 75% dei casi. Ed è il motivo, e ce lo diceva sempre il senatore, per cui noi più di 7.000 migranti al momento non siamo riusciti a ricollocare, detto in maniera brutale, chiaramente, insomma, fate la tara all'espressione, abbiamo carenza di siriani, iracheni ed eritrei finché le regole stanno così. Abbiamo solo migranti economici, scusate la battuta, ma non è una battuta, è la verità, abbiamo la gran parte di migranti economici che vengono nel nostro paese. Un altro problema però, senatore, è che probabilmente andando a discutere con l'Europa forse dovremmo iniziare a riconsiderare la posizione e lo status di chi lascia alcuni di questi paesi sottolineati in rosso, perché... Posso dire una cosa, Saluzzi? Prego. Su questo aspetto, sul decreto Miniti, la Lega ha presentato un ordine del giorno accolto dal governo proprio su questo tema, dove abbiamo chiesto di rivedere l'accordo, perché dobbiamo solo ricollocare migranti che appartengono a questa nazionalità e non per esempio dei nigeriani, quelli che provengono da quelle due regioni dove opera Boko Haram. Colui che è nigeriano o del Bangladesh, sono pochissimi, ottiene lo status di rifugiato, perché non può essere collocato in un altro paese? Quindi la Lega si è mosso anche in questi termini, in modo collaborativo nei confronti del governo. Grazie, Riccardo. Infatti in qualche modo diciamo la stessa cosa, in un tavolo a Bruxelles immaginiamo che parte della discussione debba essere, signori Sudan, Nigeria, vogliamo considerarli economici, semplicemente come se fosse gente che cerca un tenore di vita migliore o vogliamo cambiare lo status in modo da favorire la distribuzione, perché l'Italia è attraente perché è vicina, non tanto perché sia attraente economicamente. Se andiamo a vedere l'Austria a proposito di ricollocamenti, ebbene, solo dall'Italia doveva ricollocare circa 1900 migranti, solo dall'Italia 462. Sappiamo, l'abbiamo raccontato più volte, insomma il numero parla da sé, quanti ne ha ricollocati. L'Austria però paradossalmente, se andiamo a vedere le richieste di asilo concesse, non è un paese che non dia asilo ai rifugiati, questa è la fonte Eurostat, naturalmente i numeri crudi in termini assoluti ci interessano meno, però le richieste di asilo concesse per milioni di abitanti vedono l'Austria sul podio, è il terzo paese che concede più asilo, probabilmente proprio perché politicamente a Monte c'è una scrematura che non essendo un paese rivierasco riesce molto meglio all'Austria rispetto all'Italia. Noi siamo per dire che in quelle altre nazionalità dove per casi singoli, ho fatto l'esempio prima delle regioni dove opera Boko Haram, si danno degli status di rifugiati, allora anche in quel caso un nigeriano può essere ricollocato. Tra le nazionalità che sono sbarcati quest'anno in Italia, cito all'ottavo posto il Marocco, 4.000 sbarchi di marocchini. Allora chiedo ai telespettatori, ma ci sono delle guerre in Marocco? E poi perché dal Marocco, visto che dista poche miglia nautiche, non vanno queste persone direttamente verso la Spagna? Eh, perché c'è un accordo? La Spagna, sì, no, perché attua delle politiche del rigore. Io dico, ma perché ci dobbiamo prendere anche 4.000 marocchini nel nostro paese? Quando, voglio dire, la percentuale di ottenimento di una protezione internazionale è prossima allo zero. Questo è il paradosso di cui il nostro paese, il nostro governo si ritiene protagonista. a livello di lavoro italiano ed europeo. Queste persone vanno a popolare, l'abbiamo letto nei nostri titoli. No. I campi di pomodori, dove si fa caporalato. Questo non esiste. No, no, no. Cioè, in più c'è quest'altro problema, senatore. Io immagino che lei voglia fare riferimento a quanto ha detto ieri Boeri, che è un altro esponente di spicco. No, 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 senatore, non mi ha capito, mi scusi. Mi sono spiegata male io. Sì. Io le volevo dire, non stavo citando Boeri, stavo citando il contrario. Cioè, salvate queste persone, e ora parliamo anche di Boeri, poi più delle volte le si trova sotto stato di totale sfruttamento. Quindi c'è anche quest'altra parte da correggere. Ma appunto per questo è da correggere. Noi non possiamo ospitare tutti, perché altrimenti questa gente che viene sbattuta fuori dai sistemi di accoglienza, che ormai è al collasso, anzi, lo dico qua, Minniti risponda alle interrogazioni che fa la Lega Nord. Non vorremmo mai che gente che ottiene lo status di rifugiato venga sbattuta fuori immediatamente dal sistema di accoglienza perché è saturo, perché nel sistema di accoglienza teniamo mediamente per due anni dei migranti economici e quindi dei candestini. È chiaro che vengono sbattuti fuori e poi non rientrano nel loro paese e questi vanno a ingrossare le file della criminalità organizzata, del caporalato e quant'altro. Grazie. Poi parliamo anche di Boeri tra un attimo. Andrea Iacomini? Grazie. Grazie. Grazie.